Sì, perché loro sanno moltissimi, moltissimi eventi a livello nazionale e internazionale stanno nella loro età e ne lo divutano. Loro vogliono praticamente smuovere le coscienze e lo fanno in un certo atteggiamento, in una certa maniera e poi ci attaccano. Poi non ci attaccano, c'è l'incontro. E l'incontro poi rivolgono. Ma quindi dobbiamo avere... C'è un attacco di due anni. Allora, con la forza della gente mi lascia e questa attrazione di questa stessa... Ma come si venisse l'obzio dalla nera? Prendersi l'acqua e la pensare così. Sì, Gennaro, io ti lascio...